Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale E' stata ritrovata morta vicino al fiume la donna uscita di casa ieri sera a Cagli 33enne di Marotta arrestato dai carabinieri per spaccio la compagna cerca di disfarsi della droga gettandola nel vater 25 milioni di euro in cassa, tanto ammonta il tesoretto del comune di Fanno Disservizi al cimitero dell'Ulivo, le vostre segnalazioni consegnate all'assessore lavori pubblici Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il telegiornale con la notizia del ritrovamento del corpo della donna che ieri sera è uscita di casa lasciando un biglietto sul tavolo E' stata trovata priva di vita, distesa sull'erba, lato monte lungo il fiume Murano in località Rio Secco di Cagli, questo pomeriggio intorno alle 17.30 una donna di 60 anni originaria del Belgio ma che risiedeva da tempo in città con i parenti Si era allontanata volontariamente dalla sua abitazione nel tardo pomeriggio di ieri poco prima dell'ora di cena ma lasciando sulla tavola un foglietto dove chiedeva scusa ai familiari La donna da tempo soffriva di disturbi depressivi ed assumeva per questo alcuni farmaci Le ricerche sono state avviate nella giornata di oggi dopo che i parenti si sono rivolti alle forze dell'ordine che hanno avviato così subito un'operazione di ricerca interforze assieme al corpo dei vigili del fuoco ed è stato proprio un elicottero dei vigili del fuoco partito da Bologna ad avvistare lungo il greto del fiume il corpo della donna I vigili del fuoco e dei soccorritori si sono calati con il verricello per prestare soccorso alla donna dopo una notte passata all'aldiaccio e con le basse temperature di queste ore ma al loro arrivo sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna Ora sull'accaduto sono state avviate le indagini che faranno luce sulle cause del decesso e di motivi del suo allontanamento da casa oltre ai vigili del fuoco gli uomini del 118 e i carabinieri di Cagli A Marotta invece un 33enne è stato arrestato dai carabinieri per spaccio La donna, la sua compagna, ha cercato anche di sfarsi della sostanza stupefacente gettandola nel water Nuovo arresto oggi per spaccio di sostanze stupefacenti I carabinieri di Marotta infatti dopo alcune indagini e pedinamenti di un sospetto pusher hanno sottoposto a controllo due persone viste uscire dall'abitazione dell'uomo Dal controllo i clienti sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina e marijuana I due si sono dichiarati subito consumatori occasionali e segnalati per questo alla prefettura locale Poco dopo l'irruzione nell'abitazione dell'uomo con uno stratagemma è stato invitato ad uscire di casa sottovalutando però la reazione della compagna all'interno pronta a gettare nel bagno parte dello stupefacente ma bloccata in tempo Sequestrati così 50 grammi di marijuana, 3 di hashish, 10 di cocaina e materiale da taglio e confezionamento Per il 33enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto in flagranza di reato e condotto in carcere Nelle casse del comune di Fano c'è un tesoretto di 25 milioni di euro Vediamo che cosa serviranno Buone notizie per le casse del comune di Fano Il bilancio consuntivo 2016 si chiude con un avanzo di cassa di oltre 25 milioni di euro Lo ha detto con soddisfazione l'assessore alle finanze Carla Cecchetelli Nel dettaglio l'avanzo di amministrazione del 2016 è pari a 20 milioni e 437 mila euro Di cui oltre 3 milioni e mezzo è rappresentato da fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale E altri 7 milioni e mezzo circa per spese sempre in fondo capitale Questo risultato scaturisce da oltre 58 milioni di entrate correnti ed extra tributarie Per un totale complessivo di circa 95 milioni di entrate A cui fanno fronte spese correnti per poco più di 55 milioni e oltre 22 milioni in conto capitale Per quanto riguarda poi le entrate correnti, quelle tributarie ammontano a oltre 40 milioni Tra cui IMU per 13 milioni, addizionale per 6 milioni e mezzo tassa rifiuti per quasi 12 milioni Per quanto riguarda invece il recupero dell'evasione fiscale sono stati conseguiti ottimi risultati Per quanto riguarda l'IMU accertato 1 milione 81 mila euro e ricorso per 632 mila euro Addizionale comunale IRPEF accertato 57.711 euro ricorsi 55.216 Tassa dei rifiuti 614 mila euro e ricorso per 431 mila euro Questi risultati, ha aggiunto l'assessore, ci hanno consentito di effettuare numeriosi investimenti in opere nel 2016 Tra cui il risanamento di diversi edifici scolastici, la riqualificazione dello stadio Marcini La realizzazione del tratto dell'Interquartieri tra via Roma e via Trave E la qualificazione di via Garibaldi, nonché l'ampliamento del cimitolo di Rosciano Il dragaggio all'ingresso del porto, anche esso, è frutto di queste entrate Che fine ha fatto l'immobile dove un tempo c'era la caserma dei Carabinieri? Stiamo parlando di quell'immobile che si trova davanti alla stazione ferroviaria di Fano Andiamo a vedere che fine farà Prima convento, poi caserma dei Carabinieri ed ora nuova sede dei servizi educativi del comune di Fano Dopo vent'anni di abbandono, l'edificio di fronte al bastione Sangallo, ex sede della caserma dei Carabinieri di Fano Entro l'estate, tornerà ad essere animato e frequentato Una iniezione di 375 mila euro per lavori di completamento del primo intervento di ristrutturazione operato dall'Erap Consentiranno di attivare 35 postazioni lavorative collegate a fibra ottica con la casa madre del comune Liberando così i locali di via Vitruvio dove i servizi educativi hanno attualmente la loro sede Consentendo così un notevole risparmio in termini di locazione al comune di Fano Essendo la nuova struttura di proprietà Questo è un altro bel risultato che noi otteniamo perché in due anni e mezzo, in tre anni diciamo Andremo ad azzerare quasi completamente quella che è la spesa per gli affitti degli spazi pubblici Quindi anche questo è un bel risultato, non nascondo la soddisfazione Per un altro risultato importante ottenuto per la città di Fano Dopo i servizi sociali che si sono trasferiti a Sant'Orso tocca ora a quelli educativi traslocare I lavori iniziati questo febbraio dovranno terminare entro l'estate Per consentire così a settembre di operare il trasferimento delle maestranze Anche la facciata dell'edificio subirà un lifting come tocco finale Dopo che impianti termici, elettrici e finestrature a doppia camera Hanno aggiornato dal punto di vista anche energetico questo storico edificio fanese In tanti, in tanti ci avete scritto in questi giorni per segnalarci Che i bagni pubblici del cimitero dell'Ulivo erano fuori servizio E così abbiamo portato le vostre dimostranze, come facciamo sempre, all'assessore di competenza Lavoro in corso al cimitero dell'Ulivo in quella parte di struttura che ospitava i servizi igienici Il cantiere, appena si entra sulla sinistra con tre WC chimici, dimostra che il disagio è concreto Soprattutto per le persone anziane Alla parte più cospicua, quindi dei visitatori del cimitero Che con certe strutture non hanno una grande confidenza E che ci chiedono a quando sarà ripristinata la condizione iniziale Inoltre, molti lamentano il fatto che recandosi nella parte più estrema della struttura In caso di necessità di un bagno, devono risalire fino al cancello d'entrata Praticamente per poterne usufruirne di uno E che quindi una stazione intermedia, diciamo così, non guasterebbe Abbiamo girato le osservazioni fatteci dai cittadini e le loro esigenze All'assessore competente del comune di Fano, Cristian Fanesi Non sono stati riaperti i bagni che in passato c'erano E quindi attualmente i bagni sono bagni chimici Quindi con un uso più scomodo E nostra intenzione ovviamente è risolvere il problema a breve A brevissimo, in maniera tale da poter mettere a disposizione il bagno Che è comunque stato rimesso a posto recentemente Quindi speriamo possa essere fruibile in pochi giorni E' un pochettino che ci stiamo lavorando Quindi crediamo e speriamo di poter riportare Alla, diciamo, questo piccolo bagno Alla, diciamo, utilizzo di tutti i fruttori del cimitero dell'Ulivo In più, molte volte ci sono arrivate richieste Per posizionare dei bagni, magari anche provvisori In fondo al cimitero dell'Ulivo Perché le persone che per un motivo o per un altro Sono costrette a frequentare il cimitero Hanno solo un bagno in cima alla salita Quindi è stata una specifica richiesta di molte persone Che mi hanno incontrato in questi tempi La nostra obiettiva è quello di mettere dei bagni chimici Magari, bagni chimici ovviamente perché non ci sono gli allacci di norme Eccetera, magari in posizioni anche più comode per accedere E quindi contiamo a breve di sistemare entrambi i problemi A Marotta questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino e sistemazione Della segnalettica orizzontale Erano lavori assolutamente necessari Ha commentato l'assessore alla viabilità Giovanni Di Tommaso Soprattutto per la sicurezza delle persone Siamo partiti in alcune vie e nelle prossime settimane procederemo in altre Un intervento mirato che ci consentirà di rivedere gli attraversamenti pedonali Le carreggiate e tutto ciò che consente a veicoli e pedoni di circolare nel territorio Nel rispetto della segnalettica Even Mattioli di professione fa lo psicologo e lo psicoterapeuta Però ha anche una passione, quella di scrivere E così in questi giorni sta presentando il suo libro Allora, Even Mattioli, un'opera prima Ti hai cambiato la veste e ti sei dedicato alla scrittura Come mai? La scrittura in realtà ha sempre fatto parte della mia vita Sempre stata parte integrante della mia vita da quando avevo 14 anni E quindi la scrittura si dice che è un bisogno Uno scrive per bisogno Ed è vero che è un bisogno personale Però è anche altrettanto vero che c'è il desiderio in chi scrive Per lo meno in me c'era E c'è di vedere, di arrivare un giorno a vedere l'effetto che potrebbero fare Le tue parole su altri che magari potrebbero aver voglia di leggerti E questo insomma è accaduto grazie a questa prima pubblicazione Ecco, per l'opera prima cosa ti sei ispirato? Perché? Il contenuto? Come hai iniziato? Come inizia questo percorso? Allora, inizio osservando la realtà Viviamo in un'epoca dove la realtà supera di gran lunga la fantasia Nel senso che nella realtà accadono più cose rispetto a quelle che uno si può immaginare Quindi l'osservazione della realtà dà un sacco di spunti di riflessione Che poi grazie alla creatività e appunto alla fantasia Uno può allargare, può in qualche maniera potenziare Può fargli brillare, insomma, questi punti di osservazione Perché Zia Carmela aveva ragione? Zia Carmela non è mia zia, in realtà Zia Carmela nel racconto è un personaggio un po' particolare Nel senso che è una veggente cartomante che riesce a vendere le proprie verità A venderle nel vero senso della parola E a venderle a tutti coloro che hanno bisogno di verità Che sono alla ricerca di verità assolute per dare una direzione alla propria vita E lei riesce a venderle a 50 euro a consiglio a chiunque abbia problemi esistenziali di lavoro, d'amore e quant'altro E quindi Zia Carmela in questo caso è una veggente cartomante che entra in relazione con i personaggi del racconto E riesce a condizionare la vita L'ondata di maltempo, anomala tra l'altro dei giorni scorsi, ha provocato gelate estese nei campi coltivati Con effetti devastanti su vigneti, frutteti e campi coltivati a ortaggi lungo tutta la penisola Dalla Val d'Aosta alla Campania, con una stima di almeno 100 milioni di euro di danni Ma guardate in Svizzera, dove le temperature sono state ancora più rigide Come questi agricoltori hanno risolto il problema delle gelate Hanno praticamente acceso tanti piccoli falò tra i vigneti, alzando così la temperatura E con questa curiosità chiudiamo qui il nostro telegiornale Grazie per averci seguito Vi ricordo il 338 4968 250 per mettervi in contatto con la nostra redazione Anche attraverso Whatsapp, noi ci vediamo domani mattina alle 7.30 Con occhio ai giornali, la rassegna stampa Arrivederci